Queste opere sono di Charles Blanc Gatti, un pittore svizzero di Lausanne, non molto noto in Italia ma effettivamente di grandissima qualità, tra i protagonisti del movimento artistico del musicalismo che si sviluppò tra la fine degli anni 20 e l'inizio degli anni 30. Blanc Gatti, in particolare, nelle sue opere prendeva a modello di riferimento oppure di ispirazione di volta in volta brani musicali, quindi la Sweet Bergamasque di Debussy oppure il Cigno di Saint-Saëns. Nell'opera più grande è il Bolero di Ravel. Come è noto il Bolero di Ravel è un brano musicale della durata di circa 13-14 minuti nel quale un tema molto semplice viene replicato un numero grandissimo di volte, ogni volta con una orchestrazione diversa dal pianissimo fino al fortissimo. L'opera pittorica quindi, che va letta verticalmente dal basso verso l'alto, vuole proprio rendere l'idea di un tema che parte molto flebile all'inizio e che poi via via si arricchisce nella sua orchestrazione, nella sua intensità sonora, fino ad arrivare al tripudio cromatico e formale della parte superiore dell'opera.